Abbiamo tolto dalla confezione del padanino l'oggetto, adesso vado ad applicare il biadesivo della 3M quindi di qualità, togliamo se riusciamo immediatamente la pellicina. A questo punto qui inserisco al centro del vetro, nella parte superiore, l'oggetto, allora l'aria entrando esce immediatamente, crea un vortice d'aria e fa in modo che tutti i moscerini che arrivano a strada facendo non vengono più buttati sul vetro, ma al limite li trovi qua, sullo specchietto, ok? Questo era l'oggetto in discussione.